Ritmi e feel per i neobatteristi Ciao 1, 2, 3, 4 Bene, per neobatteristi intendo i ragazzini, quelli piccoli da 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni che vogliono intraprendere lo studio della batteria ho fatto un giro su Youtube e non esiste un video di insegnanti che parlano a questi ragazzi piccoli che magari potranno essere in futuro grandi batteristi e vogliono intraprendere lo studio della batteria oggi faremo un piccolo esercizio con un pattern in ottavi facilissimo e con un piccolo fill vi spiego tutto piano piano allora vi faccio sentire prima il pattern da suonare 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Benissimo adesso ho suonato un pattern in 4 quarti ad ottavo, andamento ad ottavo adesso facciamo tre misure di questo pattern e alla quarta misura, a metà della quarta misura partirà questo fill di sedicesimi che sarebbe questo qua adesso mettiamo insieme tutte e due le cose, il pattern e il fill l'esercizio verrà così 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 terza misura mi raccomando picchiare sempre in centro quando si fanno i fill e quando si porta il tempo colpi molto chiari e scanditi bene adesso facciamo questo fill e aggiungiamo il primo tom quindi i sedicesimi verranno splittati con il rullante e il primo tom quindi 4 sedicesimi sul rullante e 4 sedicesimi sul primo tom l'effetto è questo adesso rifacciamo l'esercizio da capo facendo il fill anche sul primo tom 1, 2, 3, 4 seconda misura 2, 3, 4 2, 3, 1, 2 bene il terzo esempio è quello di inserire anche il timpano quindi le famose due quartine di sedicesimi verranno sfintate in tre punti rullante tom e timpano quindi quattro sedicesimi sul rullante due sul primo tom e due sul timpano e l'effetto è questo facciamo l'esercizio da capo con questo fill 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 bene per oggi abbiamo fatto questi tre piccoli fill ci rivedremo prossimamente per i prossimi video per i neobatteristi ricapitoliamo tutto adesso vi farò ascoltare tutto e vi saluto ciao ragazzi vi saluto al prossimo video ciao ciao 5, 2, 3